C'è il via libera della Regione Campania Biogem per analizzare 150 tamponi al giorno. A garantirlo, la Presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, che considera un'ottima decisione quella della Presidenza del personale della struttura di Ariano, di mettere a disposizione la battaglia al coronavirus un'equipe di 12 biologi molecolari. L'unità di crisi della Regione ha comunicato quindi l'inserimento di Biogem nel complesso del laboratorio autorizzati ad esaminare i tamponi. In queste ore al centro di ricerca verranno comunicati bacino d'utenza e modalità di trasmissione dei flussi. All'interno lavorerà un'equipe ad hoc di 12 biologi molecolari sotto la responsabilità del Professore Michele Caraglia. Il tempo di processamento dei campioni è calcolato in circa 6 ore e la potenzialità di processamento si aggira sulle 150 unità al giorno. Sentiamo il Presidente Zecchino. Sì, insomma è una bella notizia, ci siamo voluti anche noi mettere al servizio della comunità. Adesso attendiamo, siamo nella affannosa ricerca del materiale di laboratorio che è diventato abbastanza merce rara. Abbiamo fatto adesso un contratto con una multinazionale per un acquisto massiccio, abbiamo però il problema dei tempi di consegna. Speriamo che in 5-6 giorni potremo avere questo materiale e diventare operativi.